ciao buongiorno e anzi buonasera che sono le 7 benvenuti a questo video in diretta ok in cui voglio parlarti dell'affermazione che molte persone con cui sto parlando mi fanno e mi dicono guarda lorenzo io non so vendere non so se è mai capitato qualcuno che quando gli parlavi della tua attività ti diceva che non so vendere allora innanzitutto l'abilità di vendita nel network marketing non è intesa come nella vendita tradizionale nella vendita tradizionale conta moltissimo la capacità di esprimersi la capacità di fare le domande giuste la capacità di far vedere il prodotto in un modo piuttosto che in un altro nel network marketing siccome è un'attività che è pensata e studiata per la maggior parte delle persone per tantissime persone si introducono dei tool degli strumenti quindi se entrerai avrai a disposizione dei video ed altre cose da far vedere alla persona che lavoreranno al posto tuo invece della tua voce quindi non è l'abilità di vendita l'abilità più importante nel nostro settore ma l'abilità più importante è quella di entrare sapere entrare in empatia con le altre persone detto questo fammi spendere due parole sulla vendita ok l'idea di vendere nelle persone fa venire letteralmente l'urticaria cioè quando la maggior parte delle persone il 99 per cento delle persone quando pensa alla vendita sente che gli pizzica il corpo da tutte le parti ok quindi è come se avesse un pochino ok e fosse un qualcosa che veramente fa rivoltare lo stomaco è una pratica che è stata largamente disprezzata nella nostra società quindi nella cultura moderna si pensa che siano superiori le scienze l'artigianato piuttosto che un qualsiasi altra forma professionale che è diversa dalla vendita che appunto trasferire fondamentalmente un prodotto e servizio da una persona o da un'azienda a altre persone o altre aziende perché devi assolutamente cambiare quest'idea negativa che puoi avere dalla vendita la devi assolutamente cambiare perché se ci pensi bene noi nella nostra vita ragazzi vendiamo sempre ok che sia una nostra idea che sia il nostro lavoro ok quindi facciamo conto che tu sei un artigiano un professionista quindi qualcuno che ha detto io non vendo ok io faccio un lavoro serio ok faccio un lavoro serio lavoro tradizionale io non vendo ma facciamo che tu sei che ne so un avvocato c'è concorrenza fra gli avvocati sì sei un il ristoratore c'è concorrenza fra i ristoratori sì allora oltre a il prodotto che tu vendi ok nel caso sei un avvocato il servizio dell'avvocato nel caso sei un ristoratore l'esperienza che le persone hanno nel tuo ristorante l'abilità che tu hai nel comunicare i tuoi servizi ok il tuo lavoro ad altri è fondamentale quindi l'abilità per esempio per il ristoratore di curare il locale in un certo modo rivolgersi ai clienti in un certo in un certo modo ma non solo anche l'avvocato quando deve vendere i suoi servizi ok li vende ragazzi i servizi se sei un professionista li vende ma non solo anche se sei una casalinga anche se sei un papà una mamma di famiglia dovrai comunque saper influenzare i tuoi figli perché è una competizione ok anche con i nostri figli tu affronti una competizione fra te e lo spacciatore che aspetta tuo figlio all'angolo della strada a quel punto se tu saprai comunicare meglio di quella persona le cose andranno in un modo se è lui che saprà comunicare meglio a tuo figlio tuo figlio si drogherà quindi la capacità di sapere comunicare efficacemente le nostre idee agli altri è una capacità che va assolutamente sviluppata e in un'attività come il network marketing puoi sviluppare le tue capacità di comunicazione le tue capacità di leadership purtroppo una cosa che io vedo che è veramente cazzo radicata nella popolazione italiana e mi fa incazzare come una bestia è che il 99% delle persone vede le loro capacità e le loro competenze come un dato loro sono così hanno 50 anni ma ancora vogliono rivendere sul mercato quello che hanno imparato a scuola o all'università 25 anni prima ok ma poi non vi stupite ok gente che ha il master gente che ha fatto l'università se nonostante ha fatto il master nonostante ha fatto l'università nonostante ha fatto i studi fai il cameriere o le pulizie o qualche altro lavoro la colpa non è del mercato del lavoro ok la colpa è di chi ti ha insegnato a pensare che bastasse la laurea bastasse studiare bastasse fare quello che ti hanno detto per trovare un lavoro la colpa è questa per trovare un lavoro tu un lavoro devi imparare a farlo devi imparare a fare un qualcosa che viene apprezzato dal mercato un qualcosa che è effettivamente utile se tu non sai fare un cazzo di utile è inutile che vai a cercare lavoro perché non lo troverai perché anche là ti chiederanno un qualcosa che serve alle persone quindi la cosa migliore che mi sento da dirti è acquisisci le competenze impara da qualcuno che ha già le competenze ok e inizia non pensare non pensare che le tue competenze siano un dato non pensare che ormai le carte che la vita ti ha dato siano quelle puoi acquisire delle nuove carte puoi cambiare se hai ancora energia se non hai 85 anni che sei sdraiato sul letto d'ospedale anche se ce n'hai 70 anche se ce n'hai 60 se hai un po' di energia puoi comunque fare un qualcosa per evolvere il tuo spirito e per fare dei miglioramenti perché ricordatevi ragazzi i soldi che veniamo retribuiti corrispondono al valore che noi diamo al mercato se noi portiamo del valore alle persone allora abbiamo diritto a un compenso se invece prendiamo un compenso senza dare niente cosa siamo siamo dei ladri se qualcuno ce lo dà il compenso ma sarà difficile che almeno che andiamo a rubare a casa di qualcuno qualcuno ci dà un compenso quindi l'errore è pensare che un qualcosa ti è dovuto ok non ti è dovuto niente il mondo non ti deve niente ragazzo mio ragazza mia svegliati è il momento veramente di svegliarti e di fare un qualcosa di utile per te stesso e per gli altri iniziando a pensare a contribuire al mondo e iniziando a dire cosa posso imparare che è utile cosa posso imparare per dare un servizio agli altri ok quindi ricapitolando in sintesi l'abilità di vendita non è un'abilità ok la numero uno nel nostro settore l'abilità numero uno è quella di sapere entrare in relazione con altri che è comunque l'abilità di vendere una di creare una relazione ma l'abilità di comunicare efficacemente le idee le proprie idee agli altri in un modo che sia efficace comprensibile che altre persone lo possono capire è un'abilità che non è che arriva così dal cielo è un'abilità che va sviluppata nel corso del tempo tramite studio tramite applicazione non si può e un altro grande errore è pensare che in pochi mesi tu sei in grado di acquisire di ottenere dei risultati di rilievo può essere ma dipende da qual è il tuo punto di partenza qual è il tuo punto di partenza cosa hai fatto finora oggi una figata a una persona che mi chiedeva informazioni sull'attività io ho detto ma lei ha detto cosa fai adesso faccio le pulizie ok hai avuto altre esperienze lei mi ha detto sì poi mi ha scritto ma si può sapere di cosa si tratta io gli ho detto ma se io ti dico hai avuto altre esperienze ma secondo te è per avere una risposta sì o no o magari due cose me le potresti dire su che esperienze hai quindi io ho detto no non si può sapere tu non puoi sapere io non ho tempo da perdere con una persona che se gli faccio una domanda mi risponde in quel modo selezioniamo anche le persone con cui lavorare io solitamente io lavoro con persone che hanno voglia di crescere hanno voglia di migliorare hanno voglia di darsi da fare e hanno voglia di imparare un qualcosa di nuovo se tu pensi che le tue competenze siano queste non ne vuoi più acquisire e se funziona per te per me va benissimo nel mio mondo ho visto che non funziona che se vuoi un qualcosa di diverso devi fare un qualcosa di diverso e per fare un qualcosa di diverso devi andare un attimo fuori dalla zona di comfort e fare un qualcosa che ti crea inizialmente un po' di disagio anzi più disagio ci crea e più significa che stiamo crescendo ok ragazzi grazie di avermi seguito questa sera per tutte le persone che mi hanno chiesto informazioni io non sono l'ufficio informazioni che mi chiedete dammi informazioni sulla mia solo quello che faccio no ci si conosce prima si identifica se quello che faccio può essere un qualcosa che è di reciproco interesse ok se non è di reciproco interesse le informazioni non le do perché non ho tempo perché non sono l'ufficio informazioni informo solo le persone che almeno ha due o tre domande in croce del tipo cosa stai cercando cosa hai fatto prima cosa vorresti mi sanno rispondere ok se non sai rispondere a queste tre domande non mi scrivere o comunque ok grazie ragazzi mi ha fatto piacere veramente fare questa diretta per voi questa sera e se ci avete qualche domanda la rispondiamo se no vi saluto e ci vediamo al prossimo video perché per stasera un po' di cose ve l'ho raccontata intanto saluto chi è venuto grazie comunque di essere venuti ciao maria ciao maria ciao barbara ciao barbara con te c'avevamo un discorso in sospeso simonetta mi hai venduto casa l'anno scorso quindi grazie simonetta per avermi venduto casa l'anno scorso come stai simonetta ciao ciao paola da reggio emilia e dalla colombia aurelia ciao aurelia pasquale giulia massimiliano towi caspiterina stasera un po' di persone hanno visto questa diretta paola mi raccomando ci vediamo il 14 ottobre a milano chi è del team il 14 ottobre a milano ci incontriamo balliamo e cantiamo insieme facciamo una bella giornata di formazione ma l'altra volta chi ci è stato si è perso io che ballavo e cantavo e questa volta probabilmente replico ma non lo so ciao ragazzi buona serata a tutti un abbraccio e a presto ciao